Allora io purtroppo che stare in ginocchio e perdere in ginocchio senza fare nulla, io voglio combattere per riprendere in questo paese e non saranno 80 euro a fermarmi, non saranno 80 euro a fermarmi. Io posso anche perdere, posso anche perdere, poter perdere Alessandro, poter perdere Mara, poter perdere Paola, poter perdere ognuno di voi, ma io voglio perdere il combattimento che è salta e non un ginocchio, io voglio morire una persona libera, noi non siamo interpresente.